La pizza italiana è un simbolo della cucina tradizionale e del convivio in famiglia. Preparare la pizza da zero è un'esperienza affascinante che coinvolge l'arte culinaria, la creatività e l'amore per il cibo. In questo articolo esploreremo il processo di preparazione della pizza italiana, dalla selezione degli ingredienti alla cottura nel forno, per creare un'esperienza culinaria indimenticabile che delizia il palato. La scelta degli ingredienti di qualità La base di una pizza deliziosa è l'uso di ingredienti freschi e di alta qualità. Inizia con la selezione di una farina speciale per pizza, come la farina di tipo 00, italiana, che conferisce alla pizza una consistenza leggera e croccante. Scegli un buon pomodoro san marzano, che ha un sapore ricco e dolce, e mozzarella di bufala fresca per un gusto autentico. Aggiungi basilico fresco, olio d'oliva extravergine, sale e pepe per completare la combinazione di sapori. La preparazione dell'impasto L'impasto per la pizza richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale sarà gratificante. Inizia miscelando la farina con il lievito e un pizzico di sale. Aggiungi gradualmente acqua tiepida e inizia a impastare fino a ottenere una consistenza elastica e morbida. Lascia riposare l'impasto in un luogo caldo e coperto per consentire alla lievitazione di avvenire. Durante questo processo, l'impasto si gonfierà e diventerà soffice e leggero. La stesura e la condimento della pizza Quando l'impasto è lievitato, prendine una porzione e stendila delicatamente su una superficie infarinata. Puoi utilizzare le mani o un matterello per ottenere uno spessore uniforme. Una volta steso l'impasto, trasferiscilo su una teglia da pizza leggermente unta o su una pietra refrattaria preriscaldata. Ora arriva la parte divertente. Il condimento della pizza. Spremi il pomodoro san marzano sulla base dell'impasto, distribuendolo uniformemente con il dorso di un cucchiaio. Aghiunghi la mozzarella di bufala a fette o strappata a pezzi, sparendo anche il basilico fresco. Per dare un tocco personale, puoi arricchire la pizza con altri ingredienti come salame, funghi, olive o peperoni, a seconda dei tuoi gusti. La cottura nel forno. Una volta condita la pizza, è ora di cuocerla nel forno. Preriscalda il forno alla massima temperatura possibile, preferibilmente con modalità di cottura ventilata. Posiziona la pizza sulla griglia. Bismillah. Grazie per la visione Grazie per la visione